Allora, buongiorno ragazzi, questa è la lezione registrata per l'11 maggio per le due terze. Abbiamo visto finora gli urti anelastici, in particolare quelli completamente anelastici. Quali sono quelli completamente anelastici? Quelli in cui due oggetti dopo l'urto rimangono attaccati e vanno via assieme. Questi urti, detti completamente anelastici, sono quelli in cui si perde la massima quantità possibile di energia cinetica, che non è nulla l'energia cinetica finale, perché poi gli oggetti vanno via assieme, però se ne perde una gran parte. Sicuramente l'energia cinetica finale è minora di quella iniziale. Oggi vedremo gli urti elastici. Per comodità, visto che ci sono un po' di calcoli anelastici, ho già scritti prima, adesso commento i calcoli, poi vi fornirò il pdf della lezione, o comunque potrete vedere i calcoli a schermo. Per iniziare, vediamo però un ripasso su un urto completamente inelastico. Utilizzeremo anche per questo caso e per gli altri i video registrati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, questo è un video completamente inelastico. Vedete? Alla pallina, alle palline è stato attaccato del nastro adesivo e in questo modo le due palline dopo sono rimaste attaccate. Adesso poi vedremo gli altri video successivamente. Allora, qual è la definizione di urti elastici? Gli urti si dicono elastici se l'energia cinetica si conserva. Negli urti inelastici l'energia cinetica finale è sempre minore di quella iniziale. Negli urti completamente inelastici si perde la massima quantità possibile di energia cinetica. Negli urti invece elastici l'energia cinetica si conserva. La quantità di moto invece si conserva in tutti i tipi di urti, come abbiamo visto. Tratteremo un caso semplificato per evitare troppi eccessivi calcoli algebrici. Il caso semplificato è quello in cui abbiamo una massa m1 con velocità v1 che va a urtare una massa m2 che è ferma. M2 inizialmente è ferma. Quindi v2 uguale 0. Allora, qui vedete il disegno, lo schema di quello che vedremo, no? Che faremo? Le particelle sono 1 e 2, le masse 1 e 2, velocità v1 e v2. Prima dell'urto le velocità sono v1 e v2. Dopo l'urto aggiungiamo un'apice per rappresentare le grandezze dopo l'urto. Cosa vogliamo fare? Vogliamo ricavare le velocità finali, ok? Vogliamo determinare v1 e v2 conoscendo la velocità iniziale che in questo caso è v1, va bene? Allora, scriviamo le nostre equazioni. Abbiamo la prima equazione che è la conservazione della quantità di moto. La quantità di moto iniziale è uguale alla quantità di moto finale. La seconda equazione che vale per gli urti elastici è che si conserva l'energia cinetica. L'energia cinetica iniziale è uguale all'energia cinetica finale della prima pallina e della seconda. Allora, questo è un sistema di due equazioni. Le incognite sono v1 e v2, ok? Quindi è un sistema. Come si risolve? Non è un sistema di quelli che fate normalmente in matematica al biegno. Perché? Perché la prima equazione è equazione lineare, la seconda è quadratica. Allora c'è un trucchetto. Spesso in fisica ci sono, già abbiamo visto qualche altra volta, dei trucchetti per risolvere i sistemi. In questo caso, cosa si fa? Allora, si riscrive la seconda equazione in questo modo. Si riscrive portando a sinistra i termini con la velocità. I termini che si riferiscono alla prima particella. Vedete? A questo punto cosa faccio? Semplifico un mezzo e mi rimane v1 quadro meno v1 primo quadro. Questa è la differenza di due quadrati. È un prodotto notevole. Quindi posso utilizzare l'identità dei prodotti notevoli. Per cui ho questa equazione. Ok? Posso riscrivere anche la prima. Anche nella prima riscrivo la differenza tra le due velocità. Vedete? V1 meno v1 primo. A questo punto quindi ho questa equazione 3 e questa equazione 4. Posso, come si fa, come abbiamo già visto altre volte, si può ricavare un'equazione equivalente dividendo la prima equazione per la seconda. Se io divido questa equazione per quest'altra, m1 si semplifica. Si semplifica anche questa differenza e mi rimane questo nel membro a sinistra. A destra si semplificherà m2 e andrà via un v primo 2. Quindi abbiamo ottenuto questa relazione. Questa qua è una relazione lineare. Lineare nelle velocità. Quindi a questo punto il mio sistema iniziale posso risolverlo utilizzando questa equazione che ho chiamata equazione 5 e l'equazione 4. Se io adesso prendo b primo 2, lo vado a mettere qui dentro, ottengo questa equazione. Vedete? Ho messo b primo 2 in questa equazione qui. Ottengo questa relazione. Questa relazione è l'unica incognita quale è b primo 1. Sostituisco e ho trovo b primo 1. b primo 1 è questo. Quindi b primo 1 è la velocità di 1 dopo l'urto. È interessante questa differenza delle masse che poi adesso analizziamo. Poi sostituendo b primo 1 nella prima, nell'equazione, questa qui nell'equazione 5, in 5, troveremo b primo 2. Facciamo i calcoli, un po' di algebra, viene fuori questa relazione. Quindi abbiamo ottenuto queste relazioni. Queste relazioni sono le relazioni che rappresentano la velocità finale di 1, la velocità finale di 2 dopo l'urto, essendoci soltanto la velocità v1 diversa da 0 iniziale. Perché in questo caso, questo è il caso, v2 uguale 0. Una parlina inizialmente ferma. Ok? Allora, queste relazioni non sono ovviamente da imparare a memoria, però sono da studiare. Adesso li vediamo, vediamo questi casi. Allora, vediamo i casi particolari, che poi sono anche nei video. Allora, supponiamo che le due masse siano uguali. Se le due masse sono uguali, la velocità di 1, b primo 1, è uguale a 0, perché al numeratore c'è m1 meno m2. b primo 2 è uguale a b1. Quindi che succede? Una pallina urta, ci sono due palline uguali. Una con velocità b1 urta la pallina ferma, la pallina che era in movimento si fermerà, l'altra che era ferma si muoverà alla stessa velocità. Per chi gioca a biliardo, questa è una cosa abbastanza usuale. Poi, se invece la massa m1 è molto maggiore della massa m2, immaginate un'auto che si scontra contro un pallone, ok? Cosa succederà? L'auto continuerà ad avere la stessa velocità, praticamente la stessa velocità, perché se andate a guardare la formula, se m1 è molto maggiore di m2, facciamo finta che m1 sia mille chili e m2 sia mezzo chilo, praticamente il numeratore rimane 1000 kg. Al denominatore sarebbe 1000 kg più mezzo chilo, alla fine sempre 1000 kg, per cui la velocità iniziale, praticamente la velocità dell'oggetto massiccio, molto più grosso, avrà una velocità uguale a quella iniziale. La pallina che era inizialmente ferma, il pallone nel nostro caso, invece avrà velocità doppia di quella iniziale. Questo è un effetto abbastanza sorprendente, che poi verrà assegnato come approfondimento ad alcuni di voi. Ok? Poi, il caso 3 invece è che la pallina che si sta muovendo ha una massa molto minore della pallina ferma, non so, o una pallina da tennis che va a sbattere contro il muro. Cosa succede, secondo voi, una pallina da tennis che va a sbattere contro il muro? La pallina da tennis rimbalza, giusto? Infatti, che cosa succede? Al numeratore trascuriamo m1, perché al numeratore c'è m1 meno m2, però se m1 è molto più piccolo di m2, questo è essenzialmente meno m2, vedete? E al denominatore c'era m1 più m2, ma a quel punto è praticamente m2. Quindi viene meno v1, questo ci dice che rimbalza. Ok? E la pallina che era inizialmente ferma, rimane ferma. Ok? Appunto, una pallina da tennis che va a urtare contro un muro, inverte la sua velocità e il muro rimane fermo. Ok, vediamo i video. Allora, vediamo i video. Adesso vediamo anche l'ordine che si ripresenta. Allora, questa è una massa piccola. Togliamo questo che può dar fastidio. Ok? Una massa piccola contro una massa grande. Avete visto cosa è successo? Il caso di una pallina contro il muro, guardate. Adesso, appunto, qui non siamo nel rapporto 2001. non è la pallina grande, si ha una piccola velocità. Quindi questa era la massa piccola contro una massa grande. Vediamo gli altri casi. Vediamo due masse uguali. La massa che parte urta, una rimane ferma l'altra parte. Poi vediamo abbiamo visto la massa grande su una massa piccola. Quello che ho chiamato l'effetto più sorprendente, forse. La pallina urtata va via evidentemente con una velocità maggiore. La pallina grande, invece, continua con la stessa velocità. Va bene? Allora, mi raccomando, studiate i passaggi perché c'è un insegnamento in questi passaggi vi potrebbe tornare comodo. Cercate di capire le equazioni, le approssimazioni che ho fatto. Queste approssimazioni. Approssimazioni. ok? E poi riguardate i video. Gli esercizi saranno su Classroom. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.